Ciao da Vito Torganico, fondatore di Performarsi.net Questa mattina ho deciso di fare questo brevissimo video perché dopo aver postato, aver messo online il primo video del percorso i quattro errori che ti impediscono di ottenere quello che vuoi ho ricevuto parecchie mail e qualche tirata d'orecchie ma prima di iniziare e prima di darti la precisazione ti ricordo, ti do i tre consigli di base che d'ora in avanti ti darò sempre durante i video percorsi e durante i corsi live e online il primo consiglio che ti do è quello di ricordarti sempre che non esiste una verità assoluta e non esiste una formula matematica uguale per tutti anche quello che io ti dirò non è verità assoluta ma è frutto dei miei studi e frutto della mia sperimentazione e ovviamente delle mie esperienze il secondo consiglio che ti do è quello di sospendere giudizio nei miei confronti e nei tuoi confronti nei miei confronti perché se tu incominci a giudicare come ti dico le cose come mi atteggio, come mi comporto, come mi vesto tendenzialmente sposti l'attenzione da quello che potrebbe essere veramente utile e importante per te che sono i contenuti che io cercherò di darti in maniera più corretta e chiara e semplice possibile secondo il giudizio nei tuoi confronti perché se tu continui a giudicare quello che hai fatto fino adesso hai fatto o non hai fatto tendenzialmente entri nel loop della critica del giudizio e non riesci ad andare avanti altra cosa sempre per quanto mi riguarda siccome anche questi video li faccio in maniera molto istintiva cioè nel senso quello che mi arriva faccio fluire quindi magari il mio pensiero il più veloce della parola potrei o andare troppo veloce ma quando me ne accorgo rallento o magari potrei mangiarmi qualche parola e a quel punto di quando me ne accorgo riprendo quindi non ti preoccupare porta attenzione sul senso terzo e ultimo consiglio è quello di non andare a paragonare quello che ti dico io e quello che tu impari dalle altre formazioni o dalle altre leggende dei libri non andare a paragonare con quello che sai perché il tuo cervello potrebbe se vede che è una cosa che è completamente lontana da quello che credeva potrebbe scartarla o se è simile nello stesso modo potrebbe scartarla il problema qual è? è che se continui a fare le stesse cose se continui a pensare nella stessa maniera probabilmente otterrai sempre gli stessi risultati quindi per imparare qualcosa di nuovo per fare qualcosa di nuovo devi dare modo al tuo cervello di adattarsi al cambiamento poi tornando sempre al discorso della formazione e dell'informazione è ovvio che non ti basterà solo studiare ma sarà importante anche applicare nel metodo di performarsi.net i nostri 4 punti cardine sono la formazione quindi ti darò delle informazioni quindi cerca delle informazioni nuove per cambiare o migliorare la qualità della tua vita dopodiché ci vuole l'applicazione perché se non ho una conoscenza per lo stesso motivo per cui il cervello scarta le cose che secondo lui non sono interessanti scarta anche le cose che secondo lui non servono quindi quando impari una cosa che ti sembra utile e che ti sembra che ti possa dare dei risultati fai subito che applicarla per fare in maniera tale prima per sedimentarla e per farla metabolizzare secondo per impararla ok adesso arriviamo al fulcro del video di oggi mi hanno tirato le orecchie perché mi hanno detto Vito tu parli di 4 errori che impediscono di ottenere quello che vuoi ma gli errori sono di più è vero tecnicamente io ti parlo dei 4 errori più diffusi quelli che io ho riscontrato quelli più veloci da spiegarti durante un video comprenderai che durante un video esercizio fatto così online dove comunque non c'è interazione dove comunque c'è solo un concetto che io trasferisco a te non c'è interazione durante i corsi live e durante le sessioni one to one ovviamente c'è un confronto quindi si crea un percorso sulla base dell'esperienza siccome come ti ho detto prima nel primo consiglio non esiste una formula matematica uguale per tutti non esiste una verità assoluta perché noi siamo fatti di pensieri diversi siamo fatti di emozioni diverse siamo fatti di esperienze diverse la cosa bella dell'essere umano è che ognuno di noi è diverso quindi non può esistere una formula matematica uguale per tutti quindi durante i corsi durante gli incontri one to one ovviamente c'è questa interazione e si va a identificare la vera causa del rallentamento dell'impedimento nel raggiungimento degli obiettivi quindi io ho deciso di fare questi quattro quindi ti parlerò della preoccupazione ti parlerò della premura ti parlerò del punto di vista e ti parlerò del passato però è vero sono tantissimi gli errori e alcuni errori subentrano in fasi diverse del percorso se noi identifichiamo le quattro macro aree dell'essere umano che sono i quattro poteri fondamentali che tutti noi abbiamo che sono il potere dell'identità dove per identità intendo la nostra vera essenza dove all'interno dell'identità c'è la lotta continua tra io quello che sono veramente e ego quello che vogliono che gli altri vogliono che io sia o che la società vuole che io sia o ego che sono quelle maschere che noi creiamo per farci accettare o per non farci rifiutare per non farci abbandonare secondo potere fondamentale dell'essere umano è il potere della mente quindi la capacità creativa la capacità di vedere di vedere le soluzioni la capacità comunque di creare nuove credenze nuovi modi di vedere e di pensare per poi ovviamente cambiare la propria vita ti ricordo che tutto parte dalla mente perché tutto parte da un'immagine mentale che abbiamo di noi e della nostra vita quarto potere è il potere delle emozioni che qua nel potere delle emozioni si trova il vero motivo di quello che noi facciamo vero motivo o demotivazione qui c'è l'eterna lotta tra la paura e il coraggio tra la felicità e la gioia quindi sempre gli analoghi corrispondenti sempre gli estremi contrapposti quindi identità, mente, emozione e ovviamente c'è l'ultimo potere fondamentale che è il potere delle azioni in ogni fase nell'identità troviamo tutti quei grandi obiettivi in grado di o migliorare la qualità della nostra vita o non farla peggiorare quindi a volte quando non si ha un buon obiettivo è perché o viene fatto qualcosa sulla logica del devo e del voglio è ovviamente legato all'io e all'ego oppure è un qualcosa che non è in linea con la nostra identità quindi è fondamentale che il grande obiettivo sia un qualcosa che sia in linea con il nostro vero io allora a quel punto lì troviamo la vera essenza troviamo la vera motivazione e troviamo il vero piacere nell'ottenere quello che vogliamo ottenere ovviamente identità intesa come accettazione di me e accettazione di tutte le persone che sono intorno a me qui ci sono ovviamente dei blocchi e non ce n'è uno, non ce ne sono due, non ce ne sono tre, non ce ne sono quattro siccome noi siamo fatti di tante esperienze siamo fatti di tanti risultati perché l'identità, ciò che abbiamo e ciò che facciamo è la somma, è il frutto di pensieri, emozioni ed azioni non è mai il contrario spesso si crede che quello che siamo identifica scusate che quello che abbiamo, quello che abbiamo ottenuto quello che facciamo identifica quello che siamo invece è un insieme di mente, emozioni e azioni dopodiché ci sono i blocchi a livello della mente i blocchi sul punto di vista, sulle credenze quante influenze abbiamo esterne che ci fanno vedere la vita le situazioni che viviamo in maniera non realistica quindi ci danno una visione della vita e della situazione sfalsate ovviamente se abbiamo dei dati sfalsati ovviamente anche i risultati saranno sfalsati e ovviamente ci sono i blocchi a livello delle emozioni i blocchi della paura e le paure fondamentali bloccano però noi esseri umani attraverso le paure troviamo gli spunti per evolvere perché le nostre evoluzioni avvengono attraverso il superamento delle paure di base e ovviamente le azioni, le strategie, il modo di agire in maniera costante e continua quando io allineo queste quattro poteri ovviamente incomincio ad attirare nella mia vita in maniera più consapevole e più veloce anche questo è frutto di esperienza e di studi quando abbiamo creato il percorso Freedom Way abbiamo creato un metodo che agisce su tutti e quattro i livelli ovviamente ci sarà un corso per l'identità un corso per la mente un corso per le emozioni un corso per le azioni quindi tornando a noi è vero che tecnicamente gli errori non sono quattro sono molti di più ad esempio qualcuno mi ha detto Vitto tu nei quattro video parlerai della premura e non parli della procrastinazione sì è vero perché la procrastinazione avviene prima dell'azione la premura è uno degli errori che si trovano durante l'azione ok? quindi chiaro io parlerò dei quattro errori di base probabilmente a questo punto magari integrerò con altri video sugli altri errori per fare in maniera tale che tu possa avere un quadro più completo della situazione già che ci sono ti ricordo se sei una delle persone già iscritte al percorso alla ricerca dei quattro errori fondamentali che ti impediscono di ottenere quello che vuoi ti ricordo che ieri ti ho mandato una mail un esercizio da fare in preparazione al prossimo video che registrerò a brevissimo e poi troverai online se non l'hai ancora fatto ti consiglio di andare a vedere nella tua casella mail e di andare a prendere quella mail specifica se invece sei una persona che non si è ancora iscritta al video percorso alla fine del filmato in fondo ti metterò il link per iscriverti e così farai il primo esercizio vedrai il primo video esercizio farai il secondo esercizio e di conseguenza farai tutti gli altri esercizi e già che ci sono mi ricordo ancora l'occasione per ricordarti i prossimi appuntamenti che sono il 6 marzo 2016 io e Dettor Amato, un grande formatore che ho avuto l'occasione di essere sia suo studente che adesso suo collaboratore nel senso insieme collaboriamo per creare un evento unico nel suo genere e se in marzo 2016 faremo ad Alessandria un evento dal titolo Chissà perché è capitano tutte a me durante il quale vi parleremo delle emozioni dominanti quindi vi parleremo di come si può scoprire qual è quell'emozione che caratterizza l'attrazione di stesse situazioni stesse persone in maniera continuativa nella tua vita sarà un evento interattivo perché avrete possibilità di farci delle domande direttamente sia prima dell'evento sia durante l'evento se sei una delle persone già iscritte all'evento a breve riceverai una mail dove ti spiegherò come farci le domande se invece non sei ancora se sei una delle persone che non è ancora iscritta all'evento del 6 anche per questo motivo ti metterò in fondo al video un link dove poterti iscrivere ovviamente se sei di Alessandria e dintorni sarà per te più ricordo che l'1, il 2 e il 3 di aprile a Dimoranaguardia un posto molto suggestivo al Monastero Bormida ci sarà il primo corso della Freedom Wave che ha l'obiettivo di favorire e velocizzare la tua crescita personale che poi ti permetterà di crescere a livello professionale e finanziario ed è un metodo che come ti ricordo si basa sulla formazione, sulla sperimentazione sulla collaborazione e sulla condivisione sono corsi residenziali iniziamo il venerdì sera e finiamo la domenica e agiremo insieme creeremo un gruppo perché attraverso il gruppo noi evolviamo in maniera più veloce perché uno degli obiettivi fondamentali dell'essere umano è quello di riconoscersi, accettarsi e riuscire ad accettare che è parte di reti di relazione e accettare tutte le persone che sono intorno a sé perché attraverso le altre persone comunque noi evolviamo questo corso, il primo corso è sul potere dell'identità quindi andremo alla ricerca alla scoperta del tuo vero io e di quella che si chiama la missione dell'anno e quindi andremo a riconoscere le tue maschere dell'ego noi andremo comunque a fare in maniera tale che tu abbia un andremo a sperimentare un metodo che ti possa permettere poi di creare obiettivi in linea con la tua identità detto questo io mi auguro che anche questo video di precisazione sia stato utile mi auguro che tutto quello che stiamo facendo per voi sia sul blog che durante i video percorsi che durante i corsi ti possano essere utili e ti possano aiutare a velocizzare la tua crescita personale e ti auguro una splendida giornata e mi auguro di riuscirti a incontrare prima o poi dal vivo e poter scambiare con te delle esperienze e condividere quello che è stato fatto e quello che vogliamo fare detto questo ti saluto ciao e a presto ciao ciao ciao